Verso il referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre, tornata elettorale che in 36 comuni del Lazio coincide anche con le elezioni amministrative. Antonio Scoppettuolo ha seguito a Roma un incontro promosso da giovani studenti universitari in cui sono state illustrate le ragioni del sì e del no. A lezione di cittadinanza e responsabilità, un incontro dibattito promosso da studenti e per gli studenti, due ospiti, due giuristi per discutere delle ragioni del sì e del no in vista del prossimo referendum costituzionale. Un modo per entrare davvero nei problemi che ci riguardano, dicono i ragazzi, tutti giovanissimi ma con le idee chiare. Il motivo in realtà è molto naturale perché è partito in realtà da un dibattito inter-nos dove ci chiedevamo cosa fosse giusto, cosa non fosse giusto votare a questo referendum costituzionale. Allora a un certo punto ci siamo iniziati a chiedere cosa fosse giuridicamente giusto, cosa fosse giuridicamente giusto votare e ripercorrere un po' le tappe giuridiche soprattutto di questa riforma. Molti di noi sono usciti da un ambiente liceale in cui siamo stati allenati allo studio della storia, della storia giuridica. Non tutti siamo appienamente consapevoli della sostanza di cosa è un referendum. È una riforma inutile e dannosa, dice Massimo Luciani, docente della Sapienza. Innanzitutto bisognerebbe chiedersi perché votare sì, perché visto che è una revisione della Costituzione bisogna capire quali sono le ragioni di questa riforma. In realtà le ragioni sono modestissime, debolissime e la riforma ha un segno antiparlamentare molto forte e siccome io tengo al Parlamento Repubblicano e tengo la rappresentanza di cittadini italiani, voto no. Occorre andare a discutere come si sta facendo nel merito, afferma invece Giulio Napolitano, docente di diritto amministrativo all'Università Roma 3. La mia posizione è una posizione invece favorevole al sì nel merito, innanzitutto nel suo oggetto circoscritto di questa modifica. Perché ritengo che in effetti da questa riforma possa derivare, non c'è nessuna certezza, una maggiore efficienza, se non altro per l'elemento della maggiore riconoscibilità sociale del parlamentare e dei suoi comportamenti.